42 km all'ora questo con la macchina manca faccia 56 km all'ora e ha rallentato come ho già visto noi amico che ha salutato 51 km all'ora 45 km all'ora questo faceva 62 km all'ora 57 km all'ora la macchina dall'altra parte segnala 48 però quando non sei proprio perpendicolare sballa un po' con velocità ha sballato 48 km all'ora hai pull 42 km la corriere del trasporto urbano ragazzo scooter 56 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti